Salve ragazzulli, bentornati sul canale! Siamo ovviamente di nuovo nella nostra serie di sopravvivenza dove dobbiamo fare cose qua facciamo sempre cose, non è che ci stiamo a grattare i diti e sopra sottolineo i diti dei piedi allora, che cosa voglio fare oggi? voglio sistemare il villaggio intanto dentro perché c'è ancora i villager barricati bisogna rifare un po' di roba però non lo faremo subito perché io ho pensato di aggiustare questa entrata come vi avevo già detto, almeno non mi ricordo voglio fare che questa zona sia inaccessibile da qui perché poi la raggiungerò con un ponte che faccio lì su che cos'è quella cosa che galleggia in acqua? scusatemi ah, un affogato io lo lascerei qua intanto così è caruccio, non so perché quindi dicevo, barricando lì e facendo il ponte devo fare una zona un attimino più carina per raggiungere questo buco qui e questo buco attualmente è la discesa che ci porta alla farm di scheletri alla galleria per scavare il ferro e anche al villaggio quindi la voglio rendere un attimino più un'entrata decente per fare questo devo buttare giù un po' di muri un po' di blocchi e appiattisco tutta questa zona qua fatto questo, poi ci concentriamo a fare delle scale un attimino più carine insomma, dobbiamo fare un po' di lavori di ristrutturazione per fortuna io il mio picconazzo ce l'ho quindi mi metto subito al lavoro allora, intanto una cosa che farei già da subito è sfasciare questa roba è stata bella all'inizio metterla poi lo sapevamo tutti che non sarebbe durata quando l'ho messa ho detto sì, carina però non è che mi convinca troppo intanto momentaneamente la lasciamo poi vediamo e infatti è arrivato il momento di levarcela dalle balle leviamoci pure sto muschio orribile no, non è orribile, poverino però al momento mi rompe tantissimo le balle e facciamo tutto a livello del lago non a caso io il lago l'ho fatto allo stesso livello della mia base barra magazzino diciamo così quindi rompiamo tutti questi blocchi cerchiamo di appiattire un attimino questa situazione mettiamo fine a questa fonte d'acqua infinita che al momento non ci serve anche perché di fonti d'acqua infinita ce no, ne ammareamo abbiamo direttamente un lago d'acqua infinita roba bellissima allora, intanto appiazziamo delle torce perché non si sa mai qua pure dovrei un attimino levare un po' di roba sinceramente perché devo fare una zona un po' più accessibile per andare al ponticello che starà nel lago ne posso passare su sto blocchetto uno per uno quindi vado a rompere pure questo proprio di cattiveria rompiamo tutti questi blocchi qua poi non so se appiattire completamente ma penso proprio di no oppure se fare qualcosa di scalato tipo così come sto facendo adesso intanto io farei così vediamo che ce ne viene fuori questo lo dobbiamo togliere con cattiveria proprio certo che sta zappetta non durerà un cacchio diciamoci le cose come stanno mettiamo delle torce altrimenti voi non vedete i zombie spawnano e succede un casino ok diciamo che per il momento questa stradina qua va bene qua mi ero scordato la fornace che mi serviva da segna blocco che adesso non ci serve più rimettiamoci la nostra spadina e guardiamo un po' mi sono già messo pure due torce segnaletiche qua vedi l'organizzazione fantastica ok leviamo tutti questi cosi di muschio che ecco la mia paletta è andata no non è una paletta è una zappetta comunque vabbè è andata faccio a mano è uguale ora però per fare quello che devo fare cosa devo fare mi servono degli stone brick momentaneamente quindi vediamo se abbiamo degli stone brick già belli e fatti qua non li vedo mai qua oddio ho questi qui ma poca roba poca roba allora per fare i stone brick se non mi ricordo male mi serve la pietra la stone sto dicendo una scemenza potrei dire una scemenza in questo momento ce l'ho della stone per fare una prova non ce l'ho la stone ma che cazzo lo hai ah no ce l'ho la stone allora vediamo se è vero si fanno così si fanno così quindi bisogna che noi molto anche in modo anche molto celere mettiamo a cuocere un po' di blocchi tanto la mia blast la mia super fornace l'ho trasformata con le fornaci normali quindi posso cuocere tutta questa roba tranquillissimamente qua dentro che cosa c'è rimasto un po' di vetro lo useremo tantissimo le blast fornese vabbè sta roba la posso lasciare qua controlliamo la nostra farm di ferro allora vabbè è iniziato a registrare quindi ho fatto un po' pochi lingotti ma non è un problema allora continuo a rompere qua e poi vi aggiorno appena ho finito allora io poi ho pensato come stavamo dicendo nell'altra montata mi servirebbe un piccone con silk touch perché devo prendermi un blocco di erba ok prima che io sfascio tutto perché una volta che sfascio tutto forse questa zona anzi più che forse molto probabilmente io questa zona la sposto perché lasciarla qua non avrebbe molto senso dovrei fare tutto il giro è un casino quindi penso che la porto giù o da qualche altra parte quindi prima che sfascio completamente l'accesso io direi che sarebbe il caso di provare a farci sto piccone con silk touch allora mi svuoto un attimo l'inventario prendiamoci un po' di blocchetti di blocchetti no un po' di lingotti di ferro ecco qua facciamoci che ne so 1 2 3 4 5 26 prima o poi me lo becco silk touch che cacchio prendiamoci dei lapislazzoli e andiamo a vedere quanti livelli ho 14 è una sputazzata schifosa lo so me ne rendo conto ragazzi che purtroppo sono morto ovviamente come al solito però io sono fiducioso magari ci esce prima botta che ne puoi sapere vediamo allora efficiency ma intanto silk touch lo possiamo beccare direttamente con l'incantamento sapete che non mi ricordo io faccio così vediamo vediamo quello che succede unbreaking niente vediamo così unbreaking efficiency niente forse sto sprecando livelli a gratis efficiency 1 inizio forse era meglio informarsi prima su questa cosa non lo so facciamo così disincantiamo tutto riproviamo sempre unbreaking mi sa che sto solamente sprecando livelli ho questo presentimento infatti no devo controllare silk touch da dove arriva allora da quello che ho letto si può ottenere con il tavolo degli incantamenti quindi vado a fare un po' di esperienza e ci riproviamo velocissimamente ok direi che 36 possono bastare allora signori ritentiamo la fortuna sperando che ci vada bene disincantiamo prima questi signori silk touch ce l'abbiamo dovevo fare livello 3 ok abbiamo un piccone con silk touch quindi posso andarmi a prendere un blocco di erba verde se non muoio prima ovviamente ma in teoria non dovrei morire o là vedi quanto è più figo con silk tanto me ne basta uno non è che chissà vabbè io me ne prendo di più come frega allora io mi ricordo benissimo che il blocco d'erba verde te lo dà anche col piccone mo per favore non facciamo scherzi che serviva la pala perché minca no anche col piccone dai me lo ricordo e infatti eccolo qua ce l'abbiamo ne prendo un po' dai ok ne ho presi una cinquantina non penso che me bastano dai quanti cacchio ne devo avere tanto è giusto per far spuntare un po' di verde lì a terra in modo che possiamo fare i sentieri su tutto sto casino per fare i sentieri ok allora vado a posare il mio picconazzo con silk touch che ce lo teniamo ok adesso qualcuno di voi mi deve spiegare come cacchio è possibile che questa bestia mi è esponata qua cioè non che mi dispiaccia per carità perché voglio dire fa sempre comodo avere un po' di slime ball però qua su guarda quanti ce ne stanno sono bellissimi sti cosi vabbè ma io adoro questo posto lo so che dico che mi fa schifo sto bioma poi lo adoro poi mi fa schifo è tutto un susseguirsi di cose strane ma siamo pure questo qua perfetto quanti ce ne abbiamo un bel po' ok ho posato il piccone col silk touch soprattutto col silk touch ma cazzo parlo non lo so manco io con silk touch volevo dire ovviamente quindi rimettiamoci la nostra super mega pala assassina anche che non avrebbe senso mi conviene farmi una zappetta dai mi faccio una zappetta di ferro e me la vado pure ad incantare cioè proprio non lo so oggi facciamo così cose inutili e senza senso incantare una zappa quanti di voi hanno incantato una zappa io non l'ho mai incantata penso con fortuna 3 l'inutilità la cosa più inutile del mondo vabbè almeno c'è efficiency ok come se servisse per la vasta roba efficiency facciamo così così leviamo sti blocchi di muschio lo so che ce li ho messi io è inutile che me lo ricordate però all'epoca mi sembravano utili adesso no cioè sono bellini per carità però qua non mi servono li continuerò ad usare la vedi che mi fanno la facciata del blocco tutta verde la li uso ancora però qua no allora continuo a sfasciare cose e forse sarebbe il caso anche di sfasciare le librerie ma si le sfascio lo so che col silk touch me le prendo uguali ma tanto non mi interessa le rifaccio il legno ce l'ho quello non ci manca quindi rompiamo tutto e ce le portiamo giù per il momento poi vediamo dove rimetterlo sto tavolo degli incantamenti mettiamo un po' di torce giusto per non avere rottura di balle e andiamo a sfasciare tutto quello che si può sfasciare intanto qua sta spuntando di tutto e di più cioè muori muori assassino vieni qua vieni qua vieni qua ok di cattiveria va bene continuo a rompere cose intanto mi sono appena ricordato che non ho avviato la fornace ok così cuociamo la pietra bene qui abbiamo sfasciato adesso dobbiamo andare a fare l'ingresso per la nostra miniera barra villaggio quello che sia quindi qua ci sarà l'ingresso questo è di uno lo facciamo di tre che voglio dire un ingresso che si presenta bene almeno di tre se no che schifo vabbè sta terra la togliamo tutta perché non la voglio lasciare qua assolutamente ok iniziamo a scavare tutto perfetto qua intanto richiudiamo che per il momento non ci serve qui metterò dei si metterò direttamente degli stone brick perfetto allora tutta questa zona qua la distruggo e la sostituisco con della terra sarà una cosa un po' lunghetta però è una cosa che va fatta purtroppo signori va fatta quando le cose vanno fatte vanno fatte perché altrimenti se non le fai poi è un casino ce l'ho della terra in mano non ho della terra vabbè ma intanto qua posso mettere già un blocco d'erba verde che schifo non ci fa ok sfascio tutto e prendo la terra ragazzuoli la distruzione del pavimento sta procedendo abbastanza bene ho quasi finito quindi appena finisco di fare questo sostituirò tutto con della terra mettendo qua e là dei blocchi di terra verde di erba così praticamente attecchisce diventa tutto quanto verde e poi ci possiamo pure fare i sentieri veramente quelli li possiamo fare pure subito tanto non gliene frega niente se la terra è verde o è terra grezza brulla come cazzo si chiamare non lo so non mi ricordo comunque dovrei aver finito ora la domanda è abbiamo tutta questa terra in teoria io dovrei avere un bel po' di terra effettivamente intanto prendiamoci tutta questa cobblestone perché la cobblestone mi servirà cosa cazzo è successo non ho capito che cosa ho fatto no questa cosa la devo rivedere non ho capito perché adesso c'è dell'acqua qua ma sì è da rivedere questa cosa ok mi sono rivisto il video e ho appena notato che io nell'altra mano avevo un secchio pieno d'acqua ma non l'avevo visto mai cioè ve lo giuro non l'avevo mai visto porca zotta siamo messi benissimo ma proprio bene siamo messi comunque dicevo buttiamo tutta la cobblestone là dentro che ci serve ci sono altri blocchi da raccogliere e vediamo quanta terra abbiamo ok forse non è tantissima non lasciatevi ingannare dall'apparenza potrebbe essere poca questa terra va bene iniziamo a piazzare la terra e infatti la terra era poca signori cioè era molto poca ma quanto è carino questo affogato che è diventato domestico praticamente vedete cioè è troppo carino ok fa male però è carino allora non è un problema vado a prendere dell'altra terra anche perché lo stretto che noi abbiamo costruito per uscire dalla base via mare lo volevo ingrandire quindi ne approfitto mi prendo un po' di terra così inizio pure a delineare quello che sarà il vero stretto della nostra base eccoci qua io questo qua lo volevo allargare di un bel po' sinceramente quindi almeno di due blocchi qua adesso vado questa qua non la volevo ma non è un problema me la prendo tranquillamente che palle sta piovendo ok ok rava ho preso un po' di terra in teoria mi potrebbe bastare non ci ho messo niente cioè questa palla è una cosa fantastica ok torniamo a fare quello che stavamo facendo e togliamoci da sotto sta cazzo di pioggia perfetto signori si continua a mettere terra come se non ci fosse un domani praticamente così velocissimo ok ragazzi ho finito la terra mi è bastata per fortuna e ho già piazzato quella qualche blocchetto di erba eccolo qua qualche blocchetto di grass block che poi con il tempo piano piano si va espandendo e quindi qua diventa tutto verde allora mentre che aspettiamo che la cobblestone si cuocia pensiamo a fare l'ingresso allora qui dentro questo andrà chiuso quindi facciamo così poi ci metteremo della cobblestone qualcosa per il momento la chiudo in questo modo qua allora io qua voglio fare i gradini quindi le scale che porteranno poi fino giù quindi adesso con molta moltissima pazienza iniziamo a fare delle scalinate decenti belle da vedere e scavicchiando scavicchiando vedi che c'era il ferro alla fine cioè sono stato una vita a cercare il ferro non lo trovo mai il ferro stava qua adesso che non mi serve più assolutamente a nulla io trovo il ferro siamo arrivati all'entrata della miniera di ferro intanto che poi anche questa l'aggiusteremo in modo decente e in teoria tra qualche blocco dovremmo beccare pure l'entrata della miniera di sto cacchio non della miniera l'entrata del villaggio scusate ogni tanto mi perdo pezzi strada facendo allora intanto illuminiamo il carbone ce lo prendiamo tantissimo ovviamente ok questa dovrebbe essere l'entrata del villaggio quindi il villaggio a questa altezza intere dovrebbe scavare qua se non mi sono sbagliato vediamo se è vero eccomi qua perfettamente perfetto ok questa è la nuova è il nuovo ingresso per il villaggio quindi approfittiamo e posiamo un po' di roba qua dentro intanto ecco a posto posso posare un cacchio praticamente ho il mondo in mano ok questo sarà il nuovo ingresso quindi possiamo chiuderlo con questa ragazzi siamo quasi arrivati alla fine dobbiamo arrivare dove stavano le scale per il mob spawner siamo qua è un bel lavoraccio effettivamente diciamoci la verità non è che sia proprio la cosa più divertente del mondo però bisogna farlo perché così abbiamo una bella scalinata imponente che è l'accesso ai sotterranei della nostra base perché poi qua lateralmente aprirò tutte strade che ci condurranno in altri posti che fondamentalmente dobbiamo ancora trovare che non abbiamo ancora trovati però sicuramente ci saranno cose belle qua sotto quindi mi faccio sto scalone gigante che diciamo che conduce nel sottosuolo poi se non beccassi migliaia di blocchi di gravel sarebbe meglio ma purtroppo non ci posso fare niente la gravel è la mia maledizione io l'ho già detto lo ripeto per chi non se lo fosse perso la schifo totalmente pronto ragazzi dovremmo essere arrivati ok siamo arrivati è stato un bello scavaggio potentissimo infatti sono pure sponati un po' che fai non li ammazzi a questi velocissimamente proprio ok risaliamo ecco magari l'ingresso per il villaggio lo facciamo un po' più grande tanto per avercelo insomma una cosa un pochino più importante che cacchio ok qua praticamente è diventato già tutto verde bellissimo mettiamo una torcia pure qua così la situazione si accelera perfetto e possiamo anche iniziare a fare una sorta di percorso perché no perché io ho pensato il percorso di fare no qua tu no ho sbagliato ecco dicevo sembra un percorso largo 3 che è carino in questo modo qua magari qua iniziare pure a girare così andiamo diretti verso la base che poi sarebbe il magazzino ok signori una cosa del genere vedi che già c'è una forma carina che tu c'è il percorso esci e qua vai nei sotterrani mo devo solamente fare un bel po' di scalette ovviamente le faccio di stone brick e vediamo quello che succede ah nel mentre ho pure fatto una scala di tufo che non è che mi convinca proprio tantissimo vabbè vediamo qua intanto come stiamo messi allora ok un po' ce l'abbiamo ok nero non lo voglio fare perché sennò diventa troppo un casino quindi buttiamo sta roba qua dentro così vediamoci un po' di cose inutili eh c'è tutto inutile vabbè allora prendiamo un po' di pietra liscia non il vetro e facciamo un po' di gradini questi qua voglio ok allora intanto vediamo se questi ci bastano quindi qua intanto è tutto verdissimo perfetto ok così piazziamo i nostri gradini qua vediamo se riesco a metterli velocemente ok forse così ci riesco gli stavo piazzando tre per volta ma è un po' un casino invece così velocissimo in teoria faccio molto prima spero di non finire un buco no ok ce l'ho fatta ok la risalita e poi riscendiamo e riscendiamo signori ok adesso ci siamo allora abbiamo fatto la nostra gradinata per scendere molto velocemente poi ovviamente qua andremo a sistemare tutto anche perché così fa un po' schifo quindi ora sistemiamo questo ovviamente tutto quello che stiamo facendo adesso come sempre è provvisorio perché poi andiamo ad aggiustare meglio però intanto iniziamo a dare una forma come abbiamo fatto finora facciamo una combinazione e poi vediamo se cambiarla o lasciarla così quindi leviamo tutto sto schifo qua e mettiamo qua degli slab ma è di 4 di quanto l'ho fatto sto coso? di 4 perché l'ho fatto di 4? non c'ha senso di 5 se proprio devo fare 1, 2, 3, 4 sempre dispari ragazzi cioè non ci facciamo fregare a ste cose pari in minecraft che è sempre un casino a noi ci piacciono i numeri dispari almeno su minecraft ok così così va bene dicevo continuiamo a fare sta roba ok in questo modo qua dovremmo essere più o meno a posto devo solamente mettere questo qui altrimenti si fa schifo oh mo 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 c'ha senso tutto ciò allora quindi una bella entrata larga per il nostro villaggio qua al centro ci sarà una porta e questa parete qua io la lascerei così larga e qua farei tutto quanto sempre di di stone brick ovviamente sempre momentaneamente signori eh già c'è un'altra faccia facciamo la stessa cosa pure con il soffitto direi proprio di sì e anche qua per risparmiare ovviamente andiamo a mettere degli slab perfetto poi questo lato invece vediamo qua che cosa ci sta allora io questo lato giusto per fargli avere una faccia carina farei così qua metterei così una bella torcia qua poi potremmo sfruttare qualcosa di questo tipo così sì potrebbe anche funzionare solo che qua mi servirebbe dell'altro legno ce l'avrò qua dentro dell'altro legno in teoria sì forse non è vero non ce l'ho ho finito il legno no ce l'ho da qualche parte ce l'ho allora andiamo a prendere un altro po' di legno e per il momento qua ci metterò una porta di ferro in modo che la possa aprire con un pulsante i villager non possono uscire fuori poi magari ci inventiamo qualcosa con i circuiti una porta scomparsa una cosa un po' più più figa qua però così non è che mi ispiri poco tantissimo vediamo se possiamo fare qualcosa di più caruccio tipo così non voglio farla troppo bassa se no poi sbatto con la testa non riesco ad entrare e non siamo comodi però così sì dai potrebbe avere un senso ok e saliamo su dormiamo pure visto che è notte così poi ci concentriamo a sistemare di nuovo il villaggio che giustamente abbiamo smontato l'abbiamo rimontato l'abbiamo smontato abbiamo fatto un casino quel villaggio quindi mi sembra giusto dargli una sistemata definitiva e soprattutto facciamo accoppiare i nostri villager che poverini sono rimasti soli perché li abbiamo spersi nella farm di ferro gli altri quindi c'è bisogno di ripopolamento ce l'ho del legno ok tanto non me ne sarebbe tantissimo io avrò bisogno di portarmi almeno un altro barrel con me perché devo posare roba allora il ferro ce l'ho non è vero mai posso posare questa roba che sicuramente non mi serve questo nemmeno mi serve mettiamo queste cosette momentaneamente qua dentro il ferro grezzo lo buttiamo qua ci prendiamo un po' di ferro normale anzi io vi dirò mi porto tutto questo ferro perché non si sa mai ok andiamo a fare quello che ci serve una crafting table ce l'abbiamo giù possiamo andare poi qualcuno mi deve spiegare perché mi sto portando a barca ma quelli sono dettagli tecnici che non si possono capire cioè non li potete capire voi non li posso capire io nessuno li può capire allora dicevo qui abbiamo detto che una crafting table ce l'avevo eccola qua quindi dobbiamo farci molto semplicemente una bella porta di ferro così poi mi servirà un pulsante lo facciamo ma si possono non ai pulsanti con questo no vabbè ci ho provato ogni tanto qualcosa succedeva così oppure di legno forse lo faccio proprio di legno ecco facciamo uno e due pulsantini di legno questo lo vabbè non fa niente lo molliamo lì non ce ne frega perché un pulsantino di legno io lo metterei qua così una volta si metteva così ok si esce perfetto e qua mettiamo l'altro pulsantino così ok io le porte di ferro le odio perché poi per entrare per uscire me perdo qua leviamo tutto questo tutto questo detto e ci andiamo a mettere un po' di spruce log perfetto signori non è male ovviamente la porta la devo sfasciare perché qua ci devo mettere questo così rimettiamo la porta ok ragazzoli abbiamo il nostro ingresso al villaggio adesso siamo nel villaggio quindi andiamo a buttare per terra un barrel sempre momentaneamente e mettiamoci dentro tutto quello che al momento non ci serve cioè praticamente tutto allora qui mi servirà della terra che c'ho c'ho della terra no forse è meglio se metto gli altri blocchi tanto questi qua dovrebbero essere dei moss infatti sono i moss block allora vediamo se c'ho dei moss block qua ce li ho vediamo se ce ne ho degli altri ce ne ho ok non sono tantissimi però forse mi potrebbero pure basta tanto non è che ci stanno tantissimi blocchi lasciati liberi quindi leviamo ste cose eh sono quasi convinto che mi serviranno altri blocchi comunque sto piccone l'ho fatto lavorare in questa puntata cioè in queste in queste registrazioni perché questo è il secondo giorno che registro spero di riuscire a finirlo sto video per oggi altrimenti uscirà in ritardo non lo so vedremo purtroppo ho fatto tardi al lavoro ho fatto un sacco di robe oggi sono arrivato a casa distrutto cioè proprio distrutto ho dovuto modificare un programma che normalmente cioè sulla carta c'era praticamente una previsione di mezza giornata ci abbiamo messo una settimana perché quel programma era fatto con i piedi casino assurdo però oggi l'abbiamo finito abbiamo pure pubblicato quindi siamo a posto solo che ho fatto tardissimo quindi vediamo se riusciamo a fare tutto ok non sarei dovuto cascare qua sotto qui in teoria era lo spazio che me l'ho lasciato per far sponare i slime slime che abbiamo visto che sponano un po' dove cazzo gli pare e a noi questa cosa ovviamente non è che ci dispiaccia più di tanto perché l'importante è che sponano tanto poi li ammazziamo allora andiamo a mos bloccare un po' tutto infatti non mi basteranno mai devo andarmi a prendere gli altri blocchi da sopra non c'ho voglia di usare la bomb per farli riprodurre e che poi devo andare a scassar tutto ed è un casino questa strada la facciamo finire fino a giù si facciamola finire fino laggiù ok perché qua poi ci faremo l'entrata per la in teoria farm di slime che poi bisogna vedere se era questo il punto però non ci interessa tanto bene o male da queste parti sta c'ho altra terra qui non ho altra terra forse da questa parte mi pare di ricordare niente non mi ricordo una pippa forse qui devo andarmi a prendere dell'altra terra vabbè visto che salgo su mi prendo pure degli altri mos blocco così facciamo tutto quanto in giro ok mi sembra chiaro che i mos blocco ce ne abbiamo quanti cacchio ne vogliamo noi dovrebbe bastarmi sta roba almeno per fare il pavimento e ritorniamo giù ok finiamo il percorso fino in fondo e qua mi sembra ovvio che dovremo aumentare un po' l'illuminazione perché questo effetto è molto bello considerate che adesso è giorno anche se non sembra però mettendo un po' di illuminazione dentro magari un po' di illuminazione in acqua secondo me viene meglio allora leviamo sti blocchi che sono rimasti qua così a fare nulla ci scordiamo mai le torce che sto a fare tutta sta roba per tenerli al sicuro poi lascio le zone d'ombra mi sponano i zombie e mi fanno la festa così una volta che togliamo tutto il pavimento riguardiamo un attimo il villaggio e lo ridisegniamo quindi spostiamo le case magari ne aggiungiamo qualcuna in più facciamo una bella piazzetta facciamo una zona di coltivazione per i villager che poi a me potrebbe servire non lo so ok qua sotto si cade male e non mi sembra proprio il caso di lasciarlo così in sto posto in teoria dovrei aver finito di togliere sti blocchi e ora rimettiamo tutta sta roba ok ho messo tutti i blocchi di moss per terra quindi ora iniziamo a vedere il problema è che ora non posso più andare dall'alto perché in alto c'ho quello quindi per vedere un attimino dall'alto mi devo arrampicare su un pillarone facciamo un pillarino più che pillarone vabbè facciamo sta cosa così buttiamo uno sguardo dall'alto per quanto possibile là abbiamo il nostro zombie non so se lo vedete l'affogato che cammina è carino quello lo lascio là secondo me c'è il suo perché allora sicuramente possiamo fare qualche casa in più ma la questione è facciamo le case così le facciamo più grandi più piccole non lo so ci ragiono un attimo allora intanto non avendo più il problema che la gente si cala dall'alto possiamo sfruttare le pareti quindi possiamo fare delle case direttamente costruite vicino ai bordi del villaggio così si vanno ad incastonare perfettamente e mi liberano pure spazio secondo me non è una brutta idea manterrei sempre questo stile quindi inizio a buttare giù una casa tanto per fare prove e la ricostruisco là vicino magari le facciamo un pochino più piccole qualcuna qualcuno un po' più grande vediamo quello che viene fuori tanto alla fine voglio dire lo dico sempre lo ripeto il bello di minecraft è che puoi costruire puoi fare quello che ti pare è divertente intanto leviamoci blocchi inutili che sicuramente ci abbiamo allora ho questo che non mi serve al momento i lingotti questo sta roba qua non mi serve a niente la zappetta per il momento non mi serve leviamoci un po' tutta sta roba dalle balle anche la barca in questo momento non mi serve me la sto portando a presto da una vita la cosa che mi servirà sarà una cesoia invece quella vorrei conservarmela ma non per nulla è che non ho voglia di andare a rifare altre foglie tanto il mio mouse avete presente i mouse che hanno quel pulsantino per settare la velocità il mio mouse si sfancula da solo non so perché devo vedere se posso settarlo se non lo butto alla monnezza sto coso ok vediamo tutte le foglioline in giro per il mondo perfetto buttiamo giù sta casetta e rifacciamola non so se lo sentite l'affocato che fa casino ma io lo trovo rilassante non lo so ogni tanto c'è questo rumorino tipo sciabordio d'acqua se dice sciabordio d'acqua insomma rumore di acqua praticamente non lo so c'è il suo perché mi piace gli daremo un nome a quello zombetto appena trovo una name tag gli do un nome tanto in teoria non dovrebbe desponare perché ha raccolto una torcia il ragazzo quindi sta sempre la felice allora iniziamo a mettere una casetta dove la facciamo possiamo fare una casetta bella qua spaziosa secondo me sì di 4 ok quanto abbiamo fatte altre queste qua 1 2 3 3 in teoria quindi 1 2 3 un altro qua 1 2 3 eh vedi una bella casetta messa qua in un angolino là ci facciamo magari un piccolo orticello non lo so è tutto molto in fase sperimentale signori bisogna bisogna provare la porta la facciamo laterale perché mi piacciono le porte laterali e poi qua chiudiamo il tutto così se ce la faccio ok qua due belle finestrelle con il vetro stavolta perché ce l'abbiamo ora il vetro quindi lo usiamo e anche qua una bella finestrella da ma sì così oppure una porta che conduce nell'orticello non lo so vediamo prendiamo dell'altra cobblestone facciamo così così e dovremmo essere a posto poi come avevo pensato di fare ok io l'ho fatto in questo modo qua però visto che ci voglio mettere le lanterne secondo me sarebbe più carino fare una cosa del genere vi faccio vedere se ci riesco vabbè usiamo sto blocco di cobblestone tanto ok farei direttamente così in modo che posso attaccare le lanterne lì sotto quindi sto alzando un pochino la casa di mezzo blocco però posso attaccarci una bella lanterna qua sotto che secondo me c'è il suo porco fascino facciamo la stessa cosa pure da questo lato perfetto e ma dobbiamo fargli il tetto ma voglio vedere come viene questo effetto perché io ho lasciato questo bordo qua quindi si dovrebbe vedere questo bordino di cobblestone che potrebbe anche essere carino ora questa casa visto che è adiacente la faremo in un modo un po' faremo un tetto un po' particolare quindi sarà un tetto fatto così non mi basteranno mai sti gradini non è detto che debba avere per forza il tetto a punta potrei pure fermarlo così e poi chiuderlo con degli slab anzi secondo me sarebbe pure più carina come cosa facciamo questa verifica verifichiamo istantaneamente intanto mettiamo delle torci non so se si vedrà benissimo questa puntata perché qua sotto cioè la luce c'è solo che sti blocchi sono scuri allora ce l'ho degli slab non ho degli slab ma potrei fare degli slab di cobblestone perché no chi me lo vieta voglio dire alla fine potrebbe pure risultare caluccio anzi scusami in teoria con questo dovrei risparmiare forse non mi ricordo in teoria mi pare di sì quindi saliamo così se ce la faccio ok e chiudiamo tutta questa zona magari con un blocco rialzato così richiama quel bordino che gli abbiamo lasciato ecco là non c'entrava assolutamente un cazzo col blocco ma va bene allora vediamo da lontano che effetto fa vi dirò se tolgo questo ok dicevo vi dirò a guardarla così non è che mi dispiaccia tantissimo boh magari ci rimettiamo pure la pavimentazione per terra chissà se c'ho dell'altro legno normale qui dentro mi pare eh vabbè siamo a cavallissimo signori abbiamo tutto quello che ci serve più o meno forse questo con legno non funziona vero o no va bene non fa niente mi scordo sempre giustamente si chiama stone cutter no wood cutter quindi è ovvio che non funzioni con il legno sta cosa in mezzo le palle me la devo togliere subito mi sta sclerando allora facciamoci questa pavimentazione molto velocemente mo leviamo sta torcia qua che non c'entra più niente sta torcia sta lanterna e vediamo eh vedi che è molto più carina con la lanterna così ok rimettiamo pure i blocchi d'erba tanto per dargli una faccia più carina facciamo così questo lo togliamo rimettiamo momentaneamente una torcia qua e diamogli pure la sua porticina che dovrebbe essere questa qui vediamo da lontano che effetto fa non è male signori non è non è assolutamente male ecco una cosa che qua ci stona tantissimo perfetto non è è grezza come costruzione per carità non è la costruzione della vita però considerando che è un villaggio per i villaggi che teniamo sott'acqua secondo me ci può stare allora ora dobbiamo andare a fare momentaneamente all'interno ci metteremo solamente il letto poi faremo pure degli arredamenti volevo dire allora questa casetta qua è molto carina io potrei fare potrei decidere di fare anche una casetta un po' particolare cioè nell'angolo qua è un po' rischiosa come cosa me ne rendo perfettamente conto però potremmo provarci magari proprio piccola 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 vediamo che cosa succede se la faccio l'abbiamo detto altro 3 una cosa del genere una casa in diagonale mi sa che fa schifo guarda faccio solamente una bozza la butto proprio là vediamo un attimo come potrebbe venire ma proprio buttata lì di getto e secondo me non è che viene proprio bene proviamoci velocemente sto facendo solo lo scheletro raga per capire se è una stronzata o se può avere senso oddio magari male male non è solo che non ci avrebbero anche le finestre sta cosa è proprio un buco no sembra più un pollaio no 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 togliamolo la facciamo piccolina qua nell'angoletto però con le mura dritte ci ho provato ci ho provato non si può dire che io non ci abbia provato però effettivamente viene abbastanza una merda queste case qua fatte in diagonale vengono bene se le fai grandi ma io non mi voglio frega tutto lo spazio per fare un casermone enorme per mettere quattro villager cioè il villaggio si deve avere gli spazi per i villager ma poi deve essere pure funzionale ci devo mettere delle farm le coltivazioni in modo che magari li sfrutto pure per altre cose a sti villager oltre a sfruttarli per tutto quello che stanno a fare li sfrutto per altre cose quindi una casa potremmo farla più o meno così ma secondo me così è perfetta è piccolina discreta nell'angolino bella se ne sta per i fatti suoi secondo me ci sta facciamola così 1,2,3 perfetto qua se non mi ricordo male c'è un altro blocco qua ci buttiamo come al solito ci spacchiamo tutto quello che si può spaccare qua facciamo così e là sopra così perfetto stessa cosa qua tanto ormai abbiamo imparato la tecnica prendiamo i nostri slab che andranno a fare il conto ecco questi slab sì così questi slab non ce ne ho tantissimi c'ho questo legno non mi ricordo quanto ne ho in totale vabbè che non ci vuole niente a far crescere un albero lo so però volevo evitarmi lo sbattimento di far crescere alberi e fare altre robe tanto tu vieni con me che mi servi andiamoci a fare un po' di slab con questi il mio mouse sarà di sfanculare no vedi si perde proprio le impostazioni sto bastardo allora sta casetta è proprio piccola è vero però non è manco male c'ho un'altra porticina non ce l'ho vabbè non ce ne frega niente che mi manca ah i gradini 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 eh non ce li ho mi devo fare ok sono quasi convinto che non mi basterà questo legno vabbè facciamo così e facciamoci un po' di gradini rampighiamoci quassù e facciamo esattamente come le altre case le facciamo tutte quante uguali in modo che non ci rincoglioniamo quindi bordino di cobblers che si vede tra gli slab e i gradini due file uno due esatto due file di tegole mi verrebbe da dire alla fine si adesso sono tegola due file di gradini e poi uno strato di slab di cobblers rialzato così perfetto qua sopra ci mettiamo una torcia momentaneamente dai non è male non è male ci può stare come casa questo lo chiudiamo eppure qua andiamo ad abbellire velocemente con un po' di erbetta tanto per dargli del colore così ci sta tantissimo qua riprendi le cose che non voglio andare ci ho voglia poi di andarmi a zappettare in giro per il mondo allora mettiamo un po' di luci pure per terra là ci andrà una finestra là ci andrà una finestra che poi perché ho fatto le finestre così alte no fanno schifo le finestre così alte così deve essere la finestra giusto ha più senso una finestra così no la casetta è piccolina si ha senso quindi qua una finestra da uno e qua una finestra da uno per due bellissimo e già ci abbiamo due casette che non occupano praticamente spazio perché le abbiamo fatte è praticamente vicino il perimetro di questo cerchio mi piace ora possiamo fare un'altra casetta piccola in quest'altro angoletto qua e devo smontarmi questa allora in questa casa c'è un villager quindi sarà il caso di smontarla probabilmente si smontiamola tanto qua non ci sono zombie non c'è nessuno in giro che gli potrebbe rompere le palle quindi smontiamo velocemente questa e la ricostruiamo ce ne erano due ce ne erano due ecco magari se recupero dei letti forse iniziamo a mettere pure dei letti da qualche parte allora mettiamo un letto qui così se vogliono dormire hanno il posto per andare a dormire questa intanto la smontiamo tutta perfetto sfasciamo ogni cosa poi voglio mettere comunque dei camminetti perché l'effetto del fumo che esce nonostante ci sia il vetro dovrebbe essere comunque bello ok abbiamo raccolto un po' di roba posiamo quello che non ci serve tipo la cobblestone che al momento non mi serve la gravel per quale cazzo di motivo io ho della gravel non si sa la porta la prendiamo qui andiamo a mettere la porticina a questa casupola qua bella sperza perfetto eh vedi che fa carina qua in questo angoletto non è male allora qui per terra ci mettiamo questa questa torcia da qua questa lan perché le chiamo torce se sono lanterne questa lanterna da qua la togliamo momentaneamente la piazzo qui poi le piazziamo su tutte le case su tutti gli angoli qua mi è rimasto sto pillar di roba che non ci deve essere tutta questa roba qua deve sparire prendiamo le nostre belle torce eh lanterne ma che è oggi con queste torce oh mettiamo una qua mettiamone pure un'altra qua va bene allora facciamo un'altra casetta in questo lato qui magari la possiamo fare leggermente più grande di poco ma io la farei partire da proprio da qua ce l'ho della cobblestone sì ce l'ho della cobblestone allora leviamo sta torcia la mettiamo qua per terra vediamo di quanto la possiamo fare beh secondo me così già è molto grande perché poi considerate che io mi devo unire a questo blocco qua è grande sì decisamente sì gli faremo la porta ma sapete che la porta qua secondo me c'è il suo perché gli fai la porta qua loro entrano e si vanno a fare fatti loro qua facciamo così tanto è alta 3 o alta 4 no forse è alta 4 ok qua possiamo fare una finestra da 2 e un'altra finestra da 2 e anche in quest'altro angolo che a sto punto non ci va questo ma ci va questo 1, 2 e 3 gli possiamo fare un'altra finestra ancora cioè la casa delle finestre questa è la più finestra è sta casa quindi facciamo così una bella finestra da 2 una casa molto finestrosa diciamoci la verità mettiamo una torcia per terra qua mettiamo dei blocchi molto velocemente qui su e andiamo con i nostri slab tecnici che io metterei a questo non è vero l'ho messi troppo alti ho fatto una stronzata dicevo a questa altezza qua e non è male signori non è per niente male andiamo a fare il tetto sperando che mi basti tutta la roba che c'ho ma in teoria dovrebbe quindi ci arampichiamo qua su qua facciamo due giri di gradini e li abbiamo fatta e per ultimo qua ci mettiamo uno strato di slab di cobblestone senza cascarci dentro possibilmente porca zozza lo sapevo va bene qua su ci mettiamo una torcia giusto per averla e scendiamo giù andiamo a fare il pavimento gli slab ce li abbiamo qua dentro è il caso di mettere delle torce decisamente una porta ce l'ho? no forse l'ho posata no forse già l'ho usata ok mi servirà un'altra porta me la posso fregare da qualche parte tipo me la frego da qua e anche in questo caso abbondiamo di foglie che le foglie ci danno quel non so che di cosa carina e lo facciamo pure qua una cosa del genere ok vediamo un attimo come viene oh vedi già abbiamo fatto tre belle case due anche abbastanza grandi che però non ci hanno tolto lo spazio al centro quindi al centro abbiamo ancora un sacco di roba da poter fare e non è per niente male questa cosa ora io la stessa cosa la vorrei fare pure da questo lato e infatti la faremo quindi andiamo a sfasciare tutte queste case ok casa abbattuta e io la casa che abbiamo abbattuto la ricostruirei esattamente in quest'angolino più piccina che secondo me ci sta bene leviamo ste lanterne sperando di non pentircene però io potrei farmi delle altre torce tanto per stare tranquilli eh che voglio dire non vorrei mai che qua mi spona monnezza di gente facciamo così ok perfetto dovrebbe essere abbastanza tutto illuminato più o meno poi l'illuminazione la studiamo meglio ma adesso è tutto molto provvisorio ho preso il letto in tutto ciò non ho ancora preso il letto allora il nostro amichetto sta lì ma quanto è carino allora dicevo facciamo quello che dobbiamo fare una casetta piccolina la possiamo fare secondo me senza proprio timore di sbagliare io la farei qua così secondo me ci sta tantissimo allora uno due tre un blocco di cobblestone quattro quattro iniziamo a chiudere tutto quello che bisogna chiudere così perfetto qua ci possiamo fare una finestrella qua ci possiamo fare l'ingresso e da quest'altra parte ci possiamo fare due finestrelle così perfetto andiamo a prendere i nostri slab li mettiamo sempre a questa altezza così bellissimo oh mi stanno piacendo queste casette dai anzi visto che mi trovo ci metto già l'effetto coreografico quello che cambia la faccia delle case che è questa erbettina molto carina così perfetto bellissimo e adesso andiamo come al solito a fare due giri di scalette e un giro di slab datemi questo le scalette ce l'ho si ce l'ho quindi possiamo fare andiamo allora primo giro secondo giro e terzo e terzo giro con i slab così momentaneamente se mi lavo dalle balle forse li metto momentaneamente una torcia scendiamo un attimino qua ok pavimento so finito giù devo chiudere assolutamente e anche velocemente questo buco quelli village so pirla tre secondi e si buttano giù pavimentiamo il tutto ok eh ragazzi sapete che mi piacciono le casette messe negli angoli sono molto carine perché c'è un sacco di spazio il centro bello mi piace ok ora dobbiamo fare altre casette qua io qua ne potrei fare anche due piccoline vi faccio vedere subito mi sta venendo l'estro artistico incredibile allora due piccoline quale potremmo fare vediamo come devo ragionarci allora ne possiamo fare una piccolina qui proprio piccola veramente small quindi abbiamo detto però gli angoli sempre fatti con questi quindi uno due tre il quarto è così ho sbagliato tantissimo mettiamo una torcia se non si vede un cacchio di niente perfetto questo lo rompiamo qua mettiamo uno due tre un altro di questo bellissimo così qua chiudiamo così e quindi facciamo finestrella porta e finestrella che secondo me ci sta tantissimo anche in questo caso andiamo a giocare con sti cosi qua non esageriamo visto che la casetta è piccola qua sotto ci dobbiamo mettere uno di questi probabilmente anche qua per il momento e probabilmente anche qua andiamo dei foglioline una torcia per illuminare andiamo con gli slab questa è piccolina questo è proprio un casupolo che termini incredibili mi vengono in mente a me il casupolo ma che cazzo però la sto facendo ok cobblestone saliamo vai giro di gradini altro giro di gradini magari se li metto bene è meglio e per finire slab di cobblestone ok qua la torcetta già l'abbiamo messa e va bene sfasciamo questo pavimento torcia tecnica in casa ovviamente vediamo un po' com'è è molto carina ne farei un'altra piccolina qui e butto giù questa intanto sto letto lo andiamo a mettere in un'altra parte là ce l'abbiamo messo lo mettiamo qua letto messo ecco qua che non rompe le palle a nessuno perfetto ok buttiamo giù sta casa e facciamo l'altra casetta più o meno oddio stavo sfasciando tutto ecco bisogna stare attenti è un attimo che ti sfasci tutto allora facciamo quest'altra casetta piccolina qua più o meno vediamo di quanto la posso fare questa casetta ma io direi che così va bene perché tanto arriva qua questo lo togliamo una torcetta tecnica qua che ci sta sempre bene quindi farei una roba di questo tipo ok questo qui è sempre l'angolo quindi uno due tre e il quarto è così perfetto chiudiamo così stessa cosa da questo lato ottimo qua ci mettiamo la porta finestrella da due qua invece ci esce una finestrella ma un'altra finestrella da due no no finestrella da uno perché poi fa schifo ok leviamo un attimo qua per terra che fa schifo già più che altro mi serve ok rislabbiamo il tutto con questi qua fuori sempre le nostre cioè praticamente senza ste foglie raga non si cantano messe queste sono fondamentali per fare queste costruzioni una cosa così così carino e andiamo a mettere due giri di scalette e un giro di slab scalette ce l'abbiamo sì e slab torcia tecnica e me sa che pure in altra casetta l'abbiamo fatta qua per terra dobbiamo togliere questo schifo e metterci quest'altro schifo vediamo un po' e pilarone scusami ma sei proprio in mezzo alle balle non riesco a capire non male devo dire la verità non male c'è quest'altro spazio che è completamente libero volendo si potrebbe mettere qualche altra casetta volendo senza considerare lo spazio che abbiamo al centro ora vanno rivisti ovviamente i sentieri allora intanto vediamo di farci uscire le porte dovrei averli blocchi per fare le porte in teoria sì quindi facciamo così porte 13 porte cosa cazzo ci faccio con 13 porte io ho esagerato con le porte ho chiaramente esagerato però intanto le mettiamo una due e la terza sta qua allora ovviamente come ho già detto fuori dalla porta io ci voglio il sentiero almeno di tre e poi vediamo come collegarlo con un futuro sentiero principale quindi tre qua tre qua e la stessa cosa faremo anche qui allora magari questi li potremmo unire cioè tradotto queste case sono vicine quindi potrei unire i loro sentieri perché no una stronzata teoria potrebbe no è una stronzata viene carino devo togliermi il sentiero principale che adesso non si capisce più niente ok ho unito pure quell'altro sentiero ok non è male anzi ti dirò mi piace sta cosa quindi possiamo provare a fare la stessa cosa pure qui quindi facciamo un sentierino che collega i sentieri più piccoli in questo modo questo qua magari lo spostiamo così vediamo come viene ok non è male mi piace secondo me al centro ci va una costruzione una piazza qualcosa secondo me per forza allora il centro è più o meno questo questo è di 9 quindi il centro sarà allora 1 2 3 4 5 questo qui è il centro dobbiamo beccare il punto centrale eh mi vado a beccare il punto centrale potrebbe essere questo vediamo allora 1 2 3 4 5 questo qua è il punto centrale ok questo è il centro del villaggio quindi qua io potrei decidere di farci una piazzetta una cosa molto minimal che ne so magari 3 facciamo questa prova allora 3 spazi qua 3 blocchi qua 3 blocchi anche qua io lascerei e 3 blocchi pure qua ok prima volta non si capisce ancora un cacchio ma c'ha un senso quello che sto facendo forse allora momentaneamente mettiamoci della cobblestone per capire cosa stiamo facendo ok questa dovrebbe essere la piazza magari possiamo fare una fontana potrebbe essere un'idea una fontana che scende dall'alto perché no potrebbe essere una bella idea ovviamente non rompo il blocco di vetro in alto altrimenti è un casino però potrebbe essere proprio un'idea carina fare qualcosa di questo tipo magari togliendoci quella cobblestone che sta proprio malissimo allora non è male sicuramente non è male chi è questo? mi sono terrorizzato tantissimo aspetta un attimo amico fammi fare due lavori allora proviamo con della cobblestone se io metto della cobblestone qua qua e qua non la volevo mai mettere mi sono sbagliato tantissimo qua e qua che effetto fa? non è brutta come cosa è da ottimizzare sicuramente però ci si può lavorare magari qua mettiamo acquaferma ci si può assolutamente lavorare a questo punto io farei tutta una piazzetta si metterei una strada quindi leviamo questo è ancora da studiare la situazione ragazzi leviamo pure questo questo qui dovrebbe essere centrale quindi questo qua lo dobbiamo togliere assolutamente lo sostituiamo con il muschio quindi facciamo una strada da tre che è centrale rispetto alla nostra fontana quindi qua ci va del muschio in questo modo qua ci va della terra questo va spallettato in questo modo poi qua intorno io ci metterei dell'altra terra per fare un cerchio più o meno questo va tolto che è decentrato rispetto alla fontana e quindi va sostituito ovviamente non ve lo dico manco con il muschio e qua invece va fatto un altro giro con la terra questo pure se toglie e qua mettiamo terra magari con delle torce lateralmente altrimenti inizia a sponare l'universo che noi non vogliamo assolutamente che sponi nessuno qua sotto una roba del genere potrebbe funzionare sì è da sistemare da fixare un po' dai ci stiamo come cosa secondo voi queste le patate cotte se le mangiano proviamo ne butto una qua ne butto una qua non gliene può fregare meno della roba cotta allora ragazzi diciamo che per il momento sta fontana fa schifo ok però l'idea di base non è brutta è da rifinire però non mi concentrerei a fare questo perché lo faremo più in là piuttosto andrei a iniziare inizierei a mettere il vetro a queste case e farei moltiplicare i villager secondo me questa cosa c'ha molto più senso quindi saliamo su questo è un progetto un po' lunghetto non lo riusciamo a farlo in una o due puntate secondo me a sistemare il villaggio definitivamente però come tutta questa serie che è molto scialla iniziamo i progetti e poi piano piano li aggiustiamo allora intanto svuotiamo un attimo l'inventario perché siamo arrivati a dei livelli pazzeschi c'è troppa roba esageratamente troppa roba quindi poso un attimo di cose prendiamoci un po' di vetro che sta qua ci facciamo dei pannelli e così andiamo a mettere delle finestre ai nostri villager che sono contenti ok ho esagerato come al solito perché io esagero vediamo se la nostra farm di ferro ha fatto roba sì la nostra farm di ferro ragazzi è troppo figa io questa farm di ferro la adoro è stata una cretinata costruirla se non fosse stato per il sistema di risalita dei villager era un bordello però a parte quello è stato abbastanza sciallo vediamo se ho dei letti allora un letto ce l'ho qua e mi servirà altra lana purtroppo però stavolta mi ricordo che ho le cesoie quindi invece di andare a sterminare pecore in giro vado un attimo con le cesoie e vado a prendere un po' di lana sempre che io riesca a trovare delle pecore perché le ho seccate quasi tutte fondamentalmente sì sono una brutta persona lo so prendiamoci il nostro amico qua Gianfran Filippo vieni qua Gianfran Filippo e andiamo ti ho rimesso la lead giustamente ok andiamo a cercare delle pecore con le cesoie allora io ho qua due pecorelle ce l'ho eh scusatemi e voilà te ne danno pure un botto ma che c'ho fortuna ma che sto di fortuna sulle cesoie no ok ragazzi pecore ce ne abbiamo ancora per fortuna che cos'è il blocco stupido inutile che mi sto portando vabbè questo vetro lo posso pure buttare ok per fortuna le pecore ci sono ancora pensavo di averle sterminate tutte ve lo giuro ero quasi convinto invece qua ce n'ho ancora un bel po' e poi dove sto in questo punto che cos'è cos'è sto fuori la mia base ah pensavo di stare sopra con l'isolotto ok 13 blocchi di lana potrebbero anche essere sufficienti effettivamente ok lana presa andiamo a fare i letti eccolo là si è fregato un blocco da dove si è fregato quel blocco brutto bastardo ah che poi io bastava che ammazzavo uno di questi e mi facevo droppare il blocco di lana si di lana ciao di terra d'erba insomma avete capito allora intanto sette letti per iniziare io direi che sono più che sufficienti mettiamo i letti mettiamo il vetro e poi facciamo riprodurre i villager quindi scendiamo velocemente apriamo qua oh là perfetto iniziamo con la posa dei letti momentaneamente ne metterò uno per questo lo posso mettere tranquillamente in questo spazietto che è pure molto figo mettiamo un po' di finestre qua finestre qua e finestre qua e questa casetta diciamo che è pronta qua ci mettiamo finestrelle permesso finestrelle qua il letto ce l'avevo messo si c'è ottimo andiamo da quest'altra qui una finestrella qua due finestrelle qua questa il letto ce l'ha però così non mi piace no invece era giusto così era esattamente giusto chiudiamo andiamo a mettere pure qua poi ovviamente mettiamo due letti in ogni casa così per ottimizzare qua lo mettiamo così che poi devo controllare se li ho messi bene i letti perché ecco qua mi serve un blocco di cobblestone che ho qua dentro sicuramente perché magari li ho messi male e quelli non riescono ad andare a dormire visto che io voglio che i miei villager vanno a dormire belli tranquilli sereni che siano belli freschi e pimpanti per fare quello che devono fare cioè un cazzo perché alla fine devono fare un cazzo però insomma sarebbe carino mettergli letti sistemati in modo decente tipo qua ne potrei già mettere due secondo me ok qua un altro finestrino qua pure finestrino andiamo con i letti pure qua allora qua ci metterei un letto qui così ce ne potrebbe andare un altro in teoria possono andare a dormire penso di sì chiudiamo qua finestriamo anche questa zona ok dovremmo aver finito con le finestre in teoria sì letti qua ce ne possiamo mettere pure un altro perfetto allora i letti sicuramente non mancano le finestre le abbiamo messe a tutti ricontrolliamo un attimo se abbiamo messo i letti bene a tutte le parti questo qua è messo perfettamente perfetto anche questo ok sono tutti messi bene ora signori dobbiamo far riprodurre i nostri villager in modo da avere un villaggio come si deve cioè come il nome del villaggio capito uno ha un villaggio diciamo c'è un villaggio 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 no un villaggio tanto per per fare questo mi serve farli mangiare allora abbiamo detto che con le carote loro si riproducono quindi solo che c'ho poche carote quindi se ci avessi un po' di bombi il lotto è un po' poca effettivamente prendiamoci pure questo proviamo a fare qualcosa di recente la zappettina ce l'ho non l'ho posata che poi io qua fuori avevo pure una coltivazione mi ero completamente dimenticato della coltivazione qua fuori cosa avrò messo a crescere boh chi si ricorda non ho proprio memoria allora che cosa c'è il grano eh vedi che c'è qualcosa vediamo che cos'è opla patate mangiano pure le patate non mi ricordo vabbè nel dubbio piantiamo due carote andiamo di bombil vediamo che succede allora in teoria dovrei essere a posto potrei anche fargli del pane volendo eh vabbè gli do le carote chi se ne prego em allora vi giuro che qua dentro ci sono due villager non so dove stanno qua dentro forse ma stanno dormendo ma perché è notte ma non me ne so accorto che è la notte vabbè dormiamo scusami se è notte ok cerchiamo di beccarli singolarmente qua ce n'è uno giusto eccolo qua uno due tre quattro cinque eh perché non ti prendi le carote brutto bastardo dove stai quattro cin sei sette otto se le prese ok dov'è l'altro villager mi mi sto iniziando a preoccupare dov'è l'altro villager oh raga facciamo scherzi dove cazzo sta eh lola no non è vero dov'è l'altro villager non possono affogare i villager vero eh no sta qua sto deficiente vai su ok dovreste riuscire a fare cose c'hai poche carote ti do altre carote gli mancava una carota si stiamo tutti guardando questa carota è bellissima le ha prese oh la è la magia l'amore incredibile dai fate nano villager qua tanto letti ne avete case le avete quindi non dovreste rompere le balle eh raga ci vuole ci vuole il tempo che ci vuole sono cose che richiedono un po' di tempo un po' di armonia un po' di intimità perché non nasce il nano villager che cosa è andato storto qualcosa è andato storto non è vero eccolo qua sono perso pure la patata per le mozze oh signori è nato eccolo qua il mio piccolino vieni quanto sei carino è vero sei brutto come la peste però non glielo diciamo va bene così oh abbiamo un altro villager io però mi sto pensando veramente non è che questi mi ci affogano qua dentro ho questo terrore incredibile allora facciamo così per il momento sta fontana la la chiudiamo un attimo poi la mettiamo sistemata per il momento la chiudiamo non vorrei mai che mi affogano qua dentro questi deficienti quelli villager ve l'ho detto non è che sono tutto sto sto grande genio sono proprio coglioni se proprio la dobbiamo di tutta ecco qua ci metto una torcia che non si sa mai allora ma loro secondo voi si possono già riaccoppiare ma soprattutto le patate le prendono perché se prendono le patate ce n'ho un sacco possiamo fare questa prova eh magari se ti do questa patata è meglio ok prendono anche le patate quindi in linea del tutto teorica se io vado a caricare le patate pure a questo che non gliene frega niente delle patate a questo perché non ti piacciono le patate è un problema te lo volevo dire oh rinco ah te le si apprende nano tu no che sei troppo piccolo per le patate eh ok in teoria ti ho dato patate a sufficienza tu pure c'hai patate a sufficienza mo se tanto mi da tanto eh se vi se vi gasate un attimino tutti e due magari possiamo farne un altro che dite ce la potete fare il basta che si appena si incrociano no non potete farlo voi due capito ci sono mille ottime ragioni per non farlo sta lì l'amico tuo vai a farlo con lui forza facciamo ste cose strane eccole che si avvicinano momento è magico si sono scambiate delle patate che è buon segno perché quando due village si scambiano delle patate probabilmente c'è del tenero non è vero ho scherzato guarda come si guardano niente è troppo presto si devono riprendere un po' non lo so dovevo aver sbattuto qualcosa niente vabbè prima o poi si riprodurranno di nuovo allora ragazzoli prima di chiudere questo video facciamo l'ultima modifica veloce e poi nel prossimo video ci dedichiamo a finire quello che abbiamo iniziato aggiustiamo questa parete qua questa parete qua che al momento fa abbastanza schifo me ne rendo conto va sistemata va sistemata con degli stone brick se li trovo che poi mi ricordo ma gli stone brick se li cuocio eh infatti questo è quello che mi serveva a me sapete che a me piacciono un sacco i come si chiamano i stone brick brick brickati rotti non mi ricordo come si chiamano aspettate mo mo spunta qua questo il cracker stone brick questi sono bellissimi allora iniziamo a trasformare questa parete molto velocemente quindi rompiamo tutta questa facciata che non ci interessa così e ci mettiamo degli stone brick esattamente in questo modo qua ok qua ci farei qualcosa di questo tipo che secondo me ci va pure bene e poi qua sopra metterei questo così qui leviamo questo e mettiamo tutti i stone brick possibilmente se ce la facciamo ok una roba del genere poi ovviamente faremo tutta la parete solamente per vedere che effetto fa prendiamoci i nostri crackhead non era quello che volevo fare mai nella vita prendiamoci i nostri crackhead stone brick questi qua perfetto questi li posiamo un attimo qua e andiamo a fare la magia che con i stone brick la magia è semplice basta fare una cosa l così ci metti questi qua e fai questo effetto bellissimo mi piace un sacco questo effetto rovinato molto bello poi faremo pure quelli cos'è muschiati non mi ricordo come si chiamano i mossi stone brick li metteremo da qualche parte per il momento aggiungiamo questi qua ogni tanto giusto per dargli una parvenza di rovinato allora secondo me inizia vagamente ad avere l'aspetto di una struttura nanica molto vagamente bisogna ancora lavorarci parecchio bisogna fare le colonne e tutta l'ambarata che ne viene dietro però secondo me inizia a prendere la forma vediamo se giù hanno fatto cose i ragazzi secondo me si potrebbero anzi ora stanno dormendo quelli appena si svegliano vi faccio vedere fanno cose turche allora troviamo un letto libero dormiamo due secondi e vediamo se si incontrano indostate questo sta qua l'altro indostà e l'altro non esce mai mi ho aperto sempre quell'altro villager dove cazzo la sta eccolo qua amico e dai esci che devi fare cose su ok signori c'è un altro nano villager eccolo qua e abbiamo già quattro villager vediamo se riescono a fare una cosa potente questi mamma mia questi li vedo li vedo belli in forma questi li vedo belli in forma raga no dove stai ti devi togliere da questo qua piccolo che altrimenti si frega le patate non te e si è fregato le patate sto piccolo infame bastardo allora prenditele tu ste patate perché non ti prendi le cazzo di patate e se le sta a prendere tutte il nano vabbè avete rotto le patate le butto direttamente addosso allora lui non le vuole più questi si stanno scambiando patate tra di loro non so cosa stanno facendo fanno cose strane aspetta aspetta che lo vedo lo vedo convinto vabbè ve le butto qua nel caso avete bisogno di fare cose vediamo lanciano patate a destra non si capisce niente ragazzi stanno a fare cose si scambiano cibo perché loro sono gentili allora stanno giocando a pasta la patata praticamente se lanciano le patate tra di loro quello le lancia a quello quell'altro le lancia a quella non si stacca a niente che stanno a fare fanno cose eccoli qua ecco lo sapevo che prima o poi sarebbe accaduto e quindi adesso figlieranno di nuovo e avremo il terzo nano villager quindi 5 villager io direi che 5 villager ci possiamo anche accontentare per il momento eccolo qua e in teoria potrebbe anche sponare un iron golem se si mettessero no in teoria quello spona lo stesso pure senza metterlo paura però sicuramente 5 sono sufficienti per far sponare un iron golem quindi prossimamente avremo pure un bellissimo iron golem che cammina felice nel nostro villaggio ragazzuoli io ho perso pure nel metto non so che cacchio di fine ho fatto comunque io mi fermerei qua abbiamo fatto un bel po' di cose nella prossima puntata faremo altre cose io spero che questo video vi sia piaciuto vi auguro una buona serata e ci vediamo nel prossimo episodio ciao ragazzi